Le motivazioni non devono essere quelle a fare la differenza, perché noi dobbiamo andare in campo e avere grandi motivazioni sempre, perché è nostro dovere, perché è bello essere così. Oggi non siamo riusciti ad essere i soliti, soprattutto abbiamo fatto una partenza un po' sciagurata che ha condizionato tutta la partita. La partenza che, onestamente, per quello che avevo visto in settimana, non mai immaginavo una partenza del genere, perché ci siamo allenati a grandi ritmi, con grande voglia di far bene. Oggi purtroppo l'inizio non è stato dei migliori e questo ha condizionato. Probabilmente può anche essere vero che dal punto di vista nervoso, in questa lunga rincorsa, avevamo, magari oggi abbiamo pagato qualcosa, ma dobbiamo subito circoscrivere questa parentesi a farla diventare una parentesi e invece dare forza a tutto quello di buono che abbiamo fatto fino ad ora e avere grandissime motivazioni, ma le motivazioni dobbiamo avere e abbiamo voglia. Ripeto, non esiste che noi possiamo avere meno motivazioni degli altri, noi dobbiamo andare forte senza ombre di dubbio.